Alla Chiesa, il suo salvato, ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. O Madre di Dio, Regina d'Amore, la pace tu doni al mondo e nei cuori. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Di tutti i malati le dici i dolori, consola di soffre nel corpo e nel cuore. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Allora adesso a tutti quanti vi faccio un augurio di riarmi per il suo compleanno. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Un applauso! Secondo mistero gaudioso, la visita della Madonna a Santa Elisabetta. Pregiamo per le intenzioni della Madonna. Pregiamo per le intenzioni della Madonna. Grazie a tutti. 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 Il nostro corso è il nostro corso I sve tvoje griege briše, život tvoj nije mala stvar, život tvoj najdjevši je dan, nema istin, ti si samo jedan i baš takav, ti si dragocjeni vrijedan. I baš takav, ti si dragocjeni vrijedan. Quarto mistero glorioso, la purificazione di Maria e la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia. Ave Maria piena di grazia. Ave Maria piena di grazia. Grazie a tutti. 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 , . .